Grazie. Adesso lascio la parola ad Antonella Litta, le guerre. Questi ultimi due sicuramente colpo di grazia a tutte le possibili strategie per ridurre inquinamento e cambiamento climatico. Allora intanto buongiorno a tutti. Volevo iniziare da questa immagine perché noi stiamo parlando di inquinamento atmosferico e dobbiamo assolutamente tenere presente ma non solo per questi giorni quanto contribuisca all'inquinamento il settore bellico, anche in attività normali, nel senso non quando non ci sono guerre, però sulla faccia della terra ci sono sempre guerre. Quindi volevo iniziare con questo omaggio a Piero della Francesca, siamo tutti ospiti della sua bellezza e invitare coloro che ancora non sono andati a metterla la Madonna del Parto che è a Monterchi. Madonna del Parto l'ha voluta mettere perché noi stiamo veramente facendo la guerra all'aria, quindi a ciò che respiriamo perché possiamo rimanere 20 giorni senza mangiare, possiamo rimanere una settimana senza bere, possiamo rimanere forse solo qualche minuto senza respirare. E mi andava di mettere queste due immagini che ci riportano indietro nel tempo, però ci parlano della drammatica attualità che stiamo vivendo questi giorni e ci chiamano a un impegno importante. Anche questa immagine è un'immagine ben nota, sulla quale appunto volevo richiamare la vostra attenzione, è il manifesto di Picasso contro gli orrori della guerra. E come potete vedere da questa immagine c'è una presenza anche di tutte le specie, ci sono gli animali che soffrono, ovviamente c'è il simbolo della Spagna, c'è questa perdita della luce di Dio, c'è questa madre guardate che tiene il bambino e quanto questi giorni insomma proprio stiamo facendo la guerra ai bambini, quindi al futuro, non gli facciamo la guerra soltanto perché li inquiniamo già prima del concepimento, ma li stiamo proprio distruggendo fisicamente. E quindi erano due immagini introduttive, una di un'immagine di una bellezza estrema, quella di Piero della Francesca con questa madonna preoccupata per il futuro di questo bambino e l'altra con questo grido che Picasso è un grido perenne al mondo, ma è più la guerra e invece tutte le volte ci troviamo qui. L'impatto ambientale delle attività belliche è un impatto ovviamente noto perché basta pensarci, noi sappiamo che tutti i materiali che vengono utilizzati nelle fasi belliche vanno inevitabilmente a determinare un inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, inquinamento delle catene alimentari, riduzione, distruzione della biodiversità, a cominciare ovviamente dalla biodiversità umana. Qui dentro noi siamo una rappresentanza ovviamente importante della biodiversità umana e a maggior ragione quando questa distruzione avviene nei confronti dei bambini. Di più c'è un contributo al cambiamento climatico perché l'utilizzo di armi e anche lo stesso sorvolo di jet di questi aerei a bassa quota determinano incendi vastissimi di foreste e che significa non solo riduzione della biodiversità ma riduzione anche della capacità di assorbimento della nitrite carbonica e poi chiaramente tutti i danni che vengono fatti perché nei bombardamenti ci possono essere fabbriche, raffinerie, fabbriche chimiche e quindi tutto ciò determina un ulteriore inquinamento dell'aria con il rilascio di sostanze tossiche. Poi pensate, insomma, se noi siamo entrati nell'epoca dell'utilizzo delle armi nucleari, quel fatto che un bombardamento può rilasciare una situazione di radionucliti e quindi ciò che sicuramente già sta avvenendo anche in Ucrania dove è stato e viene continuamente utilizzato i proiettili con l'uranio impoverito. Questo invece vorrei chiamare la vostra attenzione su questa slide perché ci dice come il settore bellico contribuisce in maniera specifica proprio all'inquinamento dell'aria e non soltanto perché i jet, come tutti gli aerei, utilizzano combustibile fossile e kerosene, il che significa rilasciare nell'aria polveri e gas e soprattutto anche a livello di altitudini alte dove l'unica attività umana è questa qui, ma anche perché come potete vedere da questi effetti delle combustioni e di tutto ciò che viene bombardato poi viene rilasciato in aria e poi ovviamente c'è tutto il settore bellico che utilizza kerosene per il trasferimento delle truppe, per l'utilizzo dei carri armati, per le navi ma per la stessa produzione di armi. E poi ecco, volevo richiamare alla vostra mente l'utilizzo dei gas letali che sono diciamo una tra le invenzioni umane, tra le più brutte perché sono strumenti di morte, vengono ancora utilizzati e sappiamo bene, questo mi piace sottolinearlo che i pesticidi, che sono dei biocidi, hanno come antenati appunto queste molecole che danno problematiche di ordine respiratorio, che sono orticanti e qui insomma sono le molecole che volevano usate e continuano ad essere usate, questo quindi un inquinamento atmosferico sempre da attività belliche. Le slide sono poi a vostra disposizione perché i minuti sono pochissimi e quindi devo farli vedere molto velocemente. Questi sono già degli studi che stanno uscendo su come è cambiata in maniera drammatica la qualità dell'aria in Europa a seguito della guerra in Ucraina e anche qui lo studio conclude dicendo che è assolutamente importante che ci sia un cessate il fuoco anche da un punto di vista di una prospettiva ambientale, proprio perché la qualità dell'aria ovviamente risente di questi continui bombardamenti, di queste attività belliche, di queste sostanze tossiche, sono gas e polveri che vengono rilasciate, nonché la presenza di proiettili ad uranio impoverito. Questi sono altri dati, altri studi che trovate e che appunto ci dicono come è quello che sta succedendo in quest'area dell'Ucraina, dell'Europa in relazione appunto a questi bombardamenti, a queste attività belliche e quindi questa distruzione importante di aree naturali, di foreste che chiaramente è anche di aree che possono essere destinate alla produzione agricola che chiaramente vengono inquinate e sottratte agli usi più giusti. Ovviamente c'è un impatto sul clima quindi non indifferente del settore bellico, il discorso è questo, noi sappiamo come il settore bellico contribuisce all'inquinamento atmosfero e ai cambiamenti climatici, ma non sappiamo quanto, perché le emissioni del settore bellico non vengono rendicontate e questo in tutte le varie COP che si fa si tace su questa cosa ed invece sarebbe importante sapere con precisione quanto contribuiscono ai cambiamenti climatici, all'inquinamento atmosferico questi settori. Per noi sarebbe anche più giusto perché l'articolo 11 della Costituzione, almeno rispettato, ripudia la guerra. Queste sono delle stime fatte dalla FOXIS su quanto inquina in particolare l'esercito amitricano che è l'esercito più potente e meglio attrezzato nel mondo. Quindi si parla di stime di emissioni che potrebbero andare di gas serra dall'1 al 5%, però è bene porre il problema, però non abbiamo delle risposte precise perché ovviamente sono segretati questi dati, però dobbiamo avere contezza di questo problema. Se andate su questo sito, che è questo sito per quanto riguarda le spese militari, allora potete vedere quanto ci costa il nostro impegno militare. Quando qui veniamo a dire che non abbiamo mezzi per monitorare la situazione della qualità dell'aria, non abbiamo mezzi per intervenire sulla salute delle persone, sulla scuola, che ci sono 5 milioni di famiglie, è vero, a rischio povertà, anzi poveri, eppure noi ecco che cosa spendiamo. Spendiamo in termini, diciamo, normali circa 100 milioni di euro al giorno, ogni santo giorno per le spese militari, il regime di normalità, e queste sono delle stime di questo sito, dell'osservatorio per le spese militari, che lo potete trovare in rete, è aggiornato e ci parla appunto che quest'anno siamo arrivati a oltre 1,4 miliardi di euro, che sta crescendo quindi questo impegno militare, e che l'aviazione civile italiana è responsabile di circa il 2% delle emissioni di anidride carbonica. Poi ricordiamoci che gli aerei militari come gli aerei civili ovviamente utilizzano kerosene con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista dell'inquinamento. Quanto? Ho finito? Ho due slide, se le posso presentare bene, se no me ne vado... No, questo semplicemente per richiamarvi che c'è anche un inquinamento spaziale, e quindi anche lo spazio è militarizzato, tra l'altro con problematiche non indifferenti sulle possibilità di danni ai satelliti per uso civile e con riduzione dello strato di ozono, perché i satelliti quando rientrano ovviamente perdono dei pezzi che bruciano e danno dei danni su quello che è lo strato dell'ozono. Questa è la situazione delle basi nato in Italia, vi richiamo alla mente semplicemente quello che è stato l'utilizzo tragico degli aerei che sono strumenti di morte, non sono giocattoli, con la tragedia del Cernis. Questi sono i danni del trasporto aereo e perché contribuisce quindi ai cambiamenti climatici, all'inquinamento dell'aria e questo, io penso che dentro ISDE ci sarà sicuramente un consenso sul chiedere che abbiano fine le parate militari con l'utilizzo delle frecce tricolori, perché uno Stato civile non può mostrare la propria forza tramite l'esercizio di strumenti di morte, perché sono strumenti di morte, sono jet militari che producono inquinamento e hanno dei costi pazzeschi, ogni volta che c'è una di queste parate si spendono quasi 2 milioni di euro, sottratti sempre a quei bambini, a quelle situazioni in cui invece bisognerebbe intervenire e purtroppo l'incidente di Caselle ce lo ricorda, quindi noi dovremmo far sentire questo, c'è uno Stato civile che non mostra la propria persa, la propria coesione utilizzando le parate militari. Semplicemente per quest'ultima, tanto le diapositive sono a disposizione per dire come il problema bellico in questo momento sta facendo scomparire quelli che sono i temi della transizione ecologica, siamo economie di guerra, quindi non va più bene parlare di transizione ecologica, si sta tornando all'uso del carbone, delle forme di energia più inquinanti e quindi si sta perdendo di vista quelli che erano gli obiettivi dell'agenda 2030 e quindi di obiettivi di pace. Vado velocissimamente, questa è l'ultima, ovviamente vi ringrazio per l'attenzione, mi sembra opportuno che in questi giorni nel congresso nazionale ISD si parlasse di questo tema, quindi ringrazio anche Romizzi per aver inserito, anche se alla fine in corsa, questo tema e niente, penso che giustamente come ci ricorda anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la pace è la prima condizione fondamentale perché sia rispettato ogni diritto e non c'è salute se non c'è pace, quindi il nostro primo impegno deve essere appunto un impegno per la pace e soprattutto perché si trovi una soluzione quanto prima anche per il Medio Oriente. Grazie. Grazie Antonella per aver portato questo tema e speriamo anche che il documento che stiamo facendo insieme all'AIE possa uscire al più presto, Carla magari dovremmo davvero accelerare un po' i tempi. Bene, a questo punto la parola a voi, quindi se c'è qualche intervento, siamo un po' in ritardo ma insomma non molto. Salve, Colapietro, ISD, Massavra, provincia di Taranto. Volevo dire qualcosa sulle allergie a livello dell'apparato respiratorio. Oltre a determinare l'irritazione, quindi la penetrazione dell'antigene, l'inquinante modifica l'antigene. Quindi la sintomatologia da essere periodica, stagionale diventa perenne, l'asma diventa grave e gli effetti non si hanno soltanto a livello respiratorio ma anche a livello intestinale perché lo stesso meccanismo si ripete a livello intestinale. Quindi c'è un aggravamento sintomatologico e patologico che riguarda tutto l'organismo. Volevo aggiungere questo. Grazie per questo contributo. Le, prima. Sono Gennaro Esposito della sezione Nola Cerra, provincia di Napoli. Devo lanciare un appello è un grido di dolore per la nostra terra dove, oltre all'avvenimento del numero di morti che ormai non fa più notizia, noi dobbiamo registrare anche ad alte concentrazioni di inquinanti atmosferici, con medie giornaliere e medie annuali di livello molto elevato. Allora, noi abbiamo un inceneritore proprio nell'area più inquinata dalle polveri sottini che è stato costruito da Cerra nel 2009. È cominciato a bruciare 700.000 tonnellate l'anno con tre forni. Adesso si pensa di aumentare i forni a quattro, aumentando la portata a 1.100 tonnellate. Un milione e cento mila. Undici volte Filago. Ma molte altre volte gli altri generitori italiani distribuiti in tutto il territorio. Chiedevo, ma perché non facciamo un change down? Cioè, abbiamo fatto il lockdown perché abbiamo paura, giustamente, del virus, dei virus, perché abbiamo una percezione di rischio molto elevata per quanto riguarda alcune fonti di pericolo, ma bassissima percezione di rischio, quindi inquinamento atmosferico. Ok. Allora, facciamo un change down, scusa Antonio. e blocchiamo tutte le fonti carbonfossili di abbruciamento di queste sostanze. Per dare spazio a tutti, mi chiedo di essere brevissimi, altrimenti purtroppo abbiamo ancora cinque domande e il tempo è scaduto. E quindi chiedo, chiedo se è possibile parlare di soluzioni, oltre che di studi. Certo, certo. Pochissimi secondi. Sì, domanda, affermazione secca, domanda secca. In linea, allora, perché non abbiamo il coraggio, non ho sentito una volta, la parola autismo correlata all'inquinamento dell'aria. Io ho il dato secco che si corrella perché noi ho, io sono Isde Napoli, Antonio Marfella, penso di essere abbastanza conosciuto, sono... Allora, detto questo, ho fatto un'indagine dal basso. La mia compagna è Gilda, usando il dato epidemiologico degli insegnanti di sostegno. Nelle nostre zone, parlo di Casoria, non ho ancora il dato di Aceva, 2009, scuola Gandhi, 1.230 alunni, oggi 1.200. Erano 10 insegnanti di sostegno, adesso sono 24. Per un'incidenza che è passata da uno ogni 121 alunni, a uno ogni 51. La tecnologia significa che in terra dei fuochi, nelle nostre zone, entro i prossimi cinque anni, probabilmente tre, avremo un insegnante di sostegno ogni classe. Com'è che io non ho sentito una parola autismo? Ok, allora, vai. No, no, ok. Infatti ne ha parlato, ora capisco. La questione andrebbe affrontata un po' in maniera specifica. Scusate, in Italia ci sono 41 milioni di auto civili, più il trasporto su gomma, eccetera. Allora, io non ho sentito parlare nei particolati, anche in questo bellissimo libricino che c'era di qualche anno fa, quando parla di particolato ultrafine, il più pericoloso, non si parla della questione dei freni e dell'usura delle gomme. E questa è una delle cose che chiunque viaggi per città sa benissimo che nonostante che la scuola guida ti insegnano che c'è la distanza di sicurezza, eccetera, ormai nell'auto come arma e nell'aggressività diffusa vedi continuamente gente che frena, che va a cosa, accelera, frena, eccetera. Allora, questa roba qui, siccome sono le poveri 2,5, quelle più pericolose, io credo che vada inserita nel position paper, perché il problema si lega tra l'altro alla questione chilometri 30 nelle città. Allora, anche lì chilometri 30 nelle città, però se tutti vanno a frenare e non frenare, cioè qui bisogna in qualche modo fare educazione ambientale su quanto la guida dell'auto e i trasporti su gomma, sia i freni che l'usura dei pneumatici e quindi anche lo stato delle strade siano fondamentali. Quindi questa cosa qui io credo che vada a dire. Assolutamente si aggiunge. L'ultima cosa, scusa, le cosiddette auto elettriche, che va bene per le combustioni, eccetera, però per le combustioni minori, però siccome sono più pesanti, daranno più usura. Ecco, tutte queste cose, sì, ma sono più pesanti. No, no, ho capito, ma lì sto parlando dell'usura dei pneumatici. No, siccome sono più pesanti possono anche usare. Comunque, sicuramente questo aspetto va inserito. Però fondamentalmente il problema è la decrescita. 42 milioni di auto sono delle armi in giro. Non c'è dubbio, non c'è dubbio che questi elementi sono importanti. E a parte gli aerei, anche le macchine sempre più grandi, non quelle elettriche, ma quelle più grandi. Lì davvero bisognerebbe fare una battaglia perché non c'è solo il problema che pesano di più, quindi quei problemi sono maggiori. Manca il fatto che occupano più spazio. Nelle città non c'è più spazio, quindi se non si riduce la dimensione delle macchine che sono sempre più grandi, è un bel problema. Io volevo chiedere al dottor Viegi due notizie su quel marker di cui aveva parlato prima, il benzopirene possido legato al DNA. Com'è che viene misurato? Che cosa bisogna fare per identificarlo? Per identificarlo, insomma, una biopsia? No, è praticamente un esame del siero, insomma, è un prelievo venoso. Sono anticorpi antiadotti al DNA per il benzopirene. Noi lo usiamo perché avevamo un collega all'inizio degli anni 90 che era andato all'NIH a Bethesda, aveva imparato la metodologia. Poi dopo non l'ho visto molto usare, però è considerato un potenziale biomarcatore. Infatti abbiamo visto che è legato alla residenza in area urbana rispetto alla residenza in area suburbana, al fumo, ma anche alla familiarità per il cancro del polmone. Quindi in qualche modo è un biomarcatore. Ma non so se poi è continuato, diciamo, oggi si usa moltissimo, si punta molto ai Mirna, per esempio, come anche biomarcatori per il tumore al polmone, no? Mi sembra. Grazie. Due interventi brevi e poi chiudiamo. Sì, complimenti per le relazioni di altissimo livello. Grazie di cuore. Per quanto riguarda il position paper, un suggerimento inquinamento indoor. Abbiamo il problema dei gas refrigeranti, che fanno parte della famiglia dei perfluoro archilati, visto che voi ve ne occupate. E ce le respiriamo, perché i frigoriferi, i condizionatori, i climatizzatori. E ci sono due position paper, uno di lega ambiente, che avete citato, e l'altro dell'ISPRA, dove hanno anche parlato di tutti i composti naturali che possono sostituire i perfluoro archilati attualmente in uso. Quindi spero che ISDE possa spingere tantissimo in questa direzione per convincere anche le amministrazioni, il governo italiano, ad abolire l'uso dei perfluoro archilati come gas refrigerante. Grazie. Grazie. No, volevo solo dire due cose. Una al dottor Toffol, che il progetto Mille Giorni è fantastico. Se non lo sapete, loro lo sanno, a marzo di quest'anno, tutte le associazioni di pediatri hanno scritto a tutti i sindaci. Se c'è bisogno, mando la lettera in modo che possa essere ripubblicata, come è già stata mesi fa, perché in realtà sui sindaci questo ha fatto un certo effetto. Quindi credo che se il vostro sindaco non ha ricevuto quella lettera, sarebbe un bene magari rimandargliela. La seconda cosa, dal punto di vista della qualità dell'aria, il fatto effettivamente che ha menzionato Marco Talluri e sul quale io mi scontro, del posizionamento delle centraline, è assolutamente cruciale. Ed è assolutamente cruciale in questo momento, lo è sempre stato, ma in questo momento in particolare, perché naturalmente da quelli che sono i livelli rilevati dalle centraline di una certa area, dipende poi la pianificazione delle zone di monitoraggio. E se le centraline che sono il punto di partenza per fare la zonizzazione sono collocate male, noi avremo potenzialmente, anzi probabilmente, dei sistemi di controllo della qualità dell'aria assolutamente meno efficienti. Faccio presente che i dati della qualità dell'aria devono fare riferimento sostanzialmente ai punti peggiori, perché si presume che tutti debbano respirare in tutte le aree abitate una concentrazione, o comunque concentrazioni, che rientrano nei limiti. Quindi anche lì, se potete dare un occhio a dove sono i vostri punti di monitoraggio, magari se avete segnalazioni, fatecelo sapere. Grazie, è importantissimo la condivisione di documenti, cioè se c'è una lettera, un documento da inviare ai sindaci che si può condividere, penso che sia una cosa importante. Valerio, rapidamente. Vorrei sottolineare quanto ha detto la collega adesso, perché è cruciale, cioè pensare veramente alle nuove generazioni, visto che le nuove di adesso in realtà hanno subito dei danni che non vengono neppure misurati. Quindi era una vecchia battaglia di Isde, quella del diritto del bambino a non essere inquinato, in particolare anche, ovviamente da problemi ambientali, chimici, ma anche elettromagnetici, nonché da farmaci e d'altro. Quindi sarebbe molto utile sottolineare l'importanza e l'ottimizzazione delle forze. Quindi la domanda che faccio è, non so chi mi può rispondere, qui nel gruppo di lavoro, in questi gruppi di lavoro, c'è qualcuno che si occupa, oltre che dell'interferente endocrino, che è fondamentale parlarne, valutarlo in tutti i suoi aspetti, anche l'interferenza immunitaria, perché, ad esempio, nei bambini noi stiamo purtroppo assistendo a questo accanimento che va dalla vaccinazione, piuttosto che all'ignoranza su quello che è l'inquinamento chimico. Io penso che dobbiamo valutare bene, in modo oggettivo, scientifico, verificabile, dagli scettici, che cosa stiamo combinando ai bambini di oggi, analizzando quello che è successo ai bambini di ieri, cioè a quelli che oggi hanno già 10-15 anni, perché stanno male. Questa mancanza di valutazione di insieme del dato epidemiologico dello stato di salute dei bambini è gravissimo, ritengo, perché è facilissimo da fare, i dati ci sono, i tecnici ci sono, bisogna semplicemente, come posso dire, non abboccare ai tranquillizzatori da una parte o terroristi dall'altro e andare a vedere i dati oggettivi, perché quello è, penso, un terreno di ISDE e quindi ce la possiamo fare. Grazie, Valeria. Va bene, grazie. Allora ringrazio tutti e lascio la parola a Giovanni. Di break, 5 minuti.